C'è una persona che dice di fare una cosa e poi ne fanno un'altra. Parlano per anni. Sono tutti così. C'è fatto tutti i paesi. Mi ha saltato uno. Due ore e mezza ci ho messo, una mezza. Proprio stile 900. Stile mia zia. Tanto non ho pagato il biglietto. E com'è fatto? A cosa? A non pagare. Non avevo soldi, non l'ho pagato. Questa la laviamo bene e ci dura tre giorni. Forse due. Questa è professional. La bottiglietta ce l'abbiamo, sì. È presente quelli che non ce la fanno più, che prendono, ammazzano la moglie e i figli e poi si sparano un colpo in testa. Poi ci sono arrivato un tanto così. Un tanto così ci sono arrivato. Stai! Aiuto! Stai! 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 dentro di noi.